Ciao, sono Davide e oggi vorrei raccontare il nostro nuovo sistema di drive in 48V per le applicazioni di controllo motore. Ciò che vediamo come una necessità reale per i nostri clienti oggi è di salvare l'energia elettrica, di estendere la vita di batteria e di ottenere l'autonomia extra. La performance alta, con alta responsabilità e robustezza sono anche fattori per questi sistemi. Abbiamo visto che i drive sistemi basati sull'architettura 48V sono diventati molto popolari grazie alla più efficienza riduzendo il rischio dell'ercizio dell'energia elettrico. Siamo molto entusiati perché stiamo portando una nuova soluzione che può affrontare le vostre necessità di motore grazie alla nostra molto alta performance di F7 power MOSFET che in realtà hanno un RDS-ON tra i migliori del mercato che offrono la consumazione di potenza che offrono la consumazione di potenza sull'energia elettrica sull'energia elettrica sull'energia elettrica sull'energia elettrica dell'energia elettrica sull'energia elettrica sull'energia elettrica sull'energia elettrica sull'energia elettrica che possono essere utilizzati per designare una soluzione completamente Ora si concentrava sul sistema di drive e mi mostro un'applicazione che abbiamo messo con l'amico di portare al mercato più veloce con l'applicazione di motore controllo. L'obiettivo è di mostrare il ST-Eval CTM009-V1, un kit di evaluazione designato per dimostrare le capacità dei MOSFET ST-POWER-MOSFET, basati su ST-POWER-MOSFET F7, la 100V STH310-F7 che è la migliore in classe come RDS-ON per area, con la reale avvantaggio di aumentare l'efficienza e estendendo la autonomia di batteria. L'evaluazione è concevuta come soluzione di stackabile e è creata di un porto di potenza, un porto di potenza, un capasitore e un porto di potenza. Il porto di potenza ha 36 MOSFET ST-POWER-MOSFET 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 ST-POWER-MOSFET, sono l'enhanced range gate struttura che offrono una resistenza molto alta, 1.9 millio ohm, e la capacità internazionale e la capacità di charge per il cambiamento più veloce. internazionale. Il porto di potenza ha 3 porti di potenza di potenza di potenza di potenza, l'L6491 che possono andare a 4A per portare i MOSFET ST-POWER-MOSFET. I porti di potenza di potenza di potenza di potenza di potenza di potenza, anche a frequenza, con una funzione di shuttura e comparatori per protezione. Il porto di potenza di potenza di potenza ST-MOTOR-CONTROLE, in modo che puoi interfacere il porto con ogni porto ST-MCU-CONTROL-BOARD-SUITBALL-4-MOTOR-CONTROL, che non è disponibile nel kit. La foto mostra che la temperatura dei dispositivi FACEU dopo 40 minuti continua a lavorare, in equilibrio termico. Le dispositivi funzionano in condizioni sicurezza, e la temperatura non avrà il risultato massimo, che è di 175 gradi Celsius. Infatti, a 90% del massimo lode, la temperatura massima dei dispositivi è di circa 105 gradi Celsius. La soluzione presentata è molto utente come un punto iniziale per sviluppare una piattaforma customizzata per l'applicazione di motore industriale, e permette di dimostrare le capacità dei prodotti ST-E. Per il risultato di 511, anche per l'applicazione di un rapporto sui Grazie a tutti.